E' chiaro che era una partita delicata per noi perché in questo fine campionato non possiamo fare passi falsi. Abbiamo giocato contro una squadra molto esperta, molto lineare nel suo modo di gioco, a parte le invenzioni di Gimenez. I miei ragazzi hanno risposto veramente alla grande. Stasera sono fiero di fare l'allenatore perché quando vedi i tuoi ragazzi che bene o male mettono in pratica, non dico al 100% perché è un'utopia, però vedi che rispondono e sfornano prestazioni come quella di stasera sicuramente mi dà orgoglio.